Guarderà il Festival di San Re? Senzato, a me piace molto San Re. Con Chiara Ferragni possiamo dire che sarà il Festival dell'Influencer? Dell'Influencer? Dov'è siamo tutta runata. Salutiamo Chiara Ferragni, però niente influencer. Niente influencer, ma speriamo giù su Bambini. L'esordio dei Cugini di Campagna a San Re? Non li conosco, chiedo scusa. Anima mia, torna a casa tua. Sono grande musicista, non è che sono terra a terra. I Cugini di Campagna, magari vengono qui. Anima mia, torna a casa tua. E fanno belle canzoni. Cosa pensa di Zelensky, super ospite a San Re? Lui proprio. Sono tanti italiani, sono sempre persone straniere. E gli italiani, quando li devono valutare? Oddio, mamma mia. Io mi nervosisco a immaginare che vengono tanti di questi italiani. Ma noi sappiamo che andiamo e quando... Però Zelensky è importante. Eh sì, vabbè, Zelensky è quello che è. Non ho parole. Vuole salutare Amadeus? Ehi, Amadeus, come sei? Vuole salutare Amadeus? Amadeus? Ciao Amadeus. È bello vederlo la sera. Ciao Amadeus, mi raccomando, comportati bene, come sempre. Mi piace Amadeus, è una bravissima persona. E si spiega meglio, si spiega benissimo.